Scusa, poverino, tutto sbavato dal cane. Che schifo! Vuoi il telefono? Lo vuoi fare? Fede... Ricco! Che c'è, mamma? Quella! Sei felice! No, no, no! Cosa fa? Eh, guarda, tu non hai? Ecco! Hai visto? Hai visto? Non metto a fuoco! Ecco! 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 Ma mamma, cosa stai facendo con quel cane, boh? Eheh! 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 Timidone! Molto timidone! Eheh! C'è? È Acu! Qua, non sta l'altra! Non sta l'altra! Non sta l'altra! Non si muove! Acuuu! Acuuu! Non arriva! Eh, non arriva! Chiamalo! Ma è Acu! Non sta l'altra! Non sta l'altra! Non sta l'altra! Non sta l'altra! non sa che ne colgo che bravo questo ciuccio l'ho gravissimo e tu perché non fai lo stesso? arrabbiato